Lo stop elegante di Ilaici, il taglio dentro per Belotti, il controllo di Belotti, la palla sul destro, ha provato a chiudere sul primo palo Belotti, che giocata da parte del gallo Belotti servito da un pallone prezioso di Ilaici che vede il taglio di Belotti, Belotti è bravo da girare Regini a provare a chiudere la conclusione col destro sul primo palo, la palla esce di un niente.